Un saluto a tutti e ben ritrovati con questo nuovo video che come potete vedere dal titolo sembrerebbe piuttosto impegnativo, ovvero a partire da questo video ho deciso di lanciarmi in una nuova iniziativa per così dire, presentando una serie di video, quindi delle parti di video che compongono delle parti di un corso e ho deciso di iniziare con un corso sugli script bash, ovvero con un corso sulla programmazione che si può creare, la programmazione software che si può creare mediante questo linguaggio da terminale, diciamo. I script bash sono composti da una certa sintassi specifica appunto di bash e da essenzialmente comandi da terminale, il famoso famigerato terminale che ad alcuni fa tanta paura, ad altri piace tanto, comunque ho deciso di creare questo corso appunto per, con diversi obiettivi, fra i quali non ultimo quello di sfatare il mito del terminale che fa paura, pauroso, io non lo voglio usare per questo e per quello, poi magari grazie a questo corso, almeno la mia speranza che è grazie a questo corso, insomma si sfatti un po' questo mito e magari addirittura venga voglia, venga lo sfizio, venga di moda, usare anche il terminale come opzione che ci mette a disposizione il nostro sistema Linux, nel caso specifico come sempre Ubuntu. Allora, presentazione del corso, dunque, questo canale, il mio, ovviamente non è per specialisti, ecco io l'ho sempre detto, quando ho avuto occasione di dirlo, l'ho sempre scritto nei commenti, non è un canale per specialisti, non è dedicato solo a specialisti, quindi è un canale nel quale si spiega sempre tutto per bene perché, come piace dire a me, nessuno nasce imparato e abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci spieghi le cose, se siamo interessati ovviamente a impararle o ad applicarle o ad usarle. Ecco, quindi quando ho iniziato a pensare, a progettare questo corso mi sono anche chiesto se fosse effettivamente coerente con il target di questo canale, creare un corso di programmazione che sembra una cosa per specialisti, per professionisti. Ecco, poi man mano che passava il tempo mi sono sempre più convinto che probabilmente vale la pena almeno dare un'infarinatura sulla programmazione Bash, perché può sempre servire ad ognuno di noi. Più passa il tempo, più io accumulo video nel quale spiego puntualmente come si risolvono alcuni problemi, come si usano alcune cose della nostro Ubuntu, tipo l'interfaccia Unity, qua e là. Insomma, ho accumulato quasi 100 video spiegando appunto puntualmente delle cose, con argomenti o suggeriti da voi o trovati da me, definiti da me, comunque sempre puntuali. Adesso io voglio fare un piccolo passo in più, perché anche per i non specialisti a volte è necessario ottenere qualcosa di più dal proprio PC che non usare ciò che esiste già preconfezionato. E può succedere che sia necessario svolgere delle operazioni ripetitive per le quali, proprio nostre, personali, per le quali non c'è un programma predefinito, non abbiamo uno sviluppatore al nostro fianco per dirgli, guarda, creami questo che ce l'ho bisogno. Allora perché non acquisire noi stessi quelle basi, quell'inferinatura necessaria a svolgere noi stessi quel compito? Ecco, lo scopo del mio corso è proprio questo, riuscire nel limite delle mie capacità, delle mie conoscenze, delle mie capacità didattiche, il mio intento è proprio quello di permettere idealmente ad ognuno di essere indipendenti a crearsi il loro piccolo programmino, il loro piccolo script proprio per quelle occasioni nelle quali è necessario. Ecco, quando ci si trova davanti, seduti davanti al proprio PC e si dice ecco qui, se ci fosse qualcosa che mi facesse questo lavoro più velocemente che non farlo manualmente, ah come faccio? Ecco. E allora, voilà, chi si appoggia a questo corso e si può risolvere il problema per conto proprio. Ecco, questo è un po' lo scopo, quindi da una parte smitizzare il timore, la paura del terminale, dall'altra dare uno strumento in più per ottenere qualcosa in più dal proprio sistema operativo Ubuntu basato su Linux, senza per questo essere degli specialisti, essere degli sviluppatori scafati con esperienza. Ecco, vedremo o mi direte voi alla fine del corso se sarò riuscito nel mio intento e soprattutto vedrò dalla vostra rispondenza se questa idea di proporre dei corsi su degli argomenti specifici è un'idea valida, che ha senso, che vale la pena portare avanti, oppure se deve essere abbandonata perché è troppo, troppo difficile, troppo pesante, ecco, per il tipo di canale come il mio. Quindi vedremo, comincio a proporre questo, poi vediamo come va. Ecco, ho parlato di bash, ecco, ho già cominciato a tirare in ballo un termine che probabilmente non vi dirà niente se non a qualcuno di voi che già sa cos'è. Comunque la shell bash è praticamente un linguaggio interpretato di programmazione che si scrive proprio, si scrive un linguaggio, si scrive un file di testo che poi viene interpretato da questo motore bash con una certa sintassi sua e che ci permette appunto di ordinare al nostro computer di fare le operazioni che abbiamo bisogno. Ecco, in sostanza è questo. O vedete qui sullo sfondo la pagina di Wikipedia in italiano che spiega cos'è la bash, quindi come sempre vi lascio un riferimento sull'enciclopedia libera con la quale potete aggiornarvi e informarvi sui più dettagli, su questa bash, sulle origini, sul perché, per come, che cos'è, cosa non è. E quindi non sto a spiegarvelo, basta leggere questa pagina di Wikipedia. Comunque sappiate che è un linguaggio di programmazione che è paragonabile per le potenzialità che ha, in fin dei conti, a qualsiasi linguaggio di programmazione, quello che usano, come dire, i programmatori veri, ecco. E però questo è il vantaggio che, questo linguaggio da terminale, è un vantaggio che è già tutto installato e pronto. Cioè voi installate la vostra Ubuntu e ce l'avete lì. Magari siete utenti di Ubuntu da anni, magari non lo sapevate, oppure lo sapevate ma non sapete come usarlo, però sappiate che è già tutto lì. Tutta questa potenza, tutta questa possibilità di programmazione, di automatizzare certi compiti con il vostro PC è già lì pronto ad aspettare solo che voi lo utilizziate. E noi con questo corso lo impariremo. Ecco. Qui ripeto quello che ho appena detto, con questo linguaggio che, ecco, diciamo che nel gergo degli sviluppatori, dei programmatori di software, linguaggio è da intendere proprio come la lingua con la quale, la sintassi con la quale si dice al computer cosa fare. Ecco perché parlo di linguaggio. Quindi Bash io lo paragono a un linguaggio e quindi parlerò di linguaggio. D'ora in avanti. E appunto abbiamo a disposizione tutta la potenza del terminale Linux. Tutta la potenza si intende, tutti i comandi che voi potete fare singolarmente, potete eseguire singolarmente a terminale, li avete a disposizione, potete inserirli, innestarli in uno script Bash per eseguirli automaticamente. Ecco. Questa è una frase importante, bisogna tenere sempre presente che Linux è nato con il terminale. un po' come tutti i sistemi operativi, e anche prima di Windows c'era il DOS, tutto a interfaccia caratteri, quindi l'evoluzione di tutti i sistemi operativi è stata un po' questa. E Linux è appunto nato con il terminale, già allora era migliore del DOS corrispettivo. Questo non c'è dubbio, è sempre stato molto potente come sistema operativo, anche a terminale. E come unica interfaccia, scusate, come unica interfaccia c'era il terminale prima, poi le interfacce grafiche, quindi quella che vedete qui Unity, per esempio, o GNOME, oppure KDE, LXDE, quello che volete voi, sono interfacce grafiche che sono costruite sopra la base che funziona a terminale. Quindi dovete sapere che tutto ciò che vedete qui di gestito graficamente, in realtà dietro in Linux, ha i corrispondenti comandi da terminale, perché tutto nasce da lì, tutto si basa su quello. Quindi per quello che parlo di tutta la potenza del terminale che abbiamo a disposizione, perché veramente da terminale si può fare tutto nel mondo, Linux. Basta sapere come fare, ovviamente. Altrettanto ovviamente, siccome è un tema sterminato, noi non potremo ovviamente affrontare tutto in dettaglio, è impossibile in questo corso. In questo corso vedremo un'infarinatura, romperemo il ghiaccio, vedremo come si fanno le cose base per creare uno script bash e per innestare dei comandi da terminale. Però veramente saranno degli esempi didattici semplici, ma saranno appunto degli esempi, dei modelli che potrete risfruttare per le vostre creazioni di script. Quindi io vi do questa possibilità di avere una base di partenza. Ecco. i concetti di programmazione che impareremo in questo corso, tra l'altro, sempre per chi è interessato, ovviamente, quindi al di là delle caratteristiche del linguaggio, quindi al di là delle specifiche sintattiche di bash, che è diverso da, che ne so, Python, C, C++, Java, ecco, di tutti i linguaggi anche più famosi, i concetti, i principi di programmazione sono comunque validi e identici, non è che impariamo qualcosa di speciale, specifico per le bash, ma quanto impariamo qui vale anche, e applicabile anche, ad altri linguaggi di programmazione. Ecco. Ribadisco, quanto ho già detto all'inizio del video, che fra noi, gli sviluppatori professionisti, ovviamente ce ne passa, non è che alla fine di questo corso possiamo andare con il nostro curriculum a cercare un posto di lavoro per sviluppare. Ecco. Noi faremo, impareremo le basi, avremo un'infarinatura degli script bash, probabilmente, almeno, secondo i miei intenti, come ho detto, uno degli obiettivi è che chiunque segua questo corso poi sia in grado di partire da lì e crearsi i suoi script a seconda delle sue necessità, però ecco. non è un corso per professionisti, è un corso, spero appunto, di essere riuscito a tenere questo corso a un livello adatto al mio canale, cioè non necessariamente per specialisti, ma anche per principianti, perché no? Ecco. Come strumento di lavoro useremo G-Edit, che è il normalissimo editor di testo, eccolo qua, l'ho già aperto, con alcune, preferenze attivate, quindi anche voi, se volete, o se avrete la pazienza e la curiosità di seguire questo corso, potete preparare il vostro profilo G-Edit con alcune preferenze attivate, in modo che vediate le cose come le vedo io quando ve le presenterò nelle prossime parti del corso. Quindi, ecco, l'evidenziazione della sintassi è una caratteristica, adesso apriamo un documento senza titolo, ecco, vedete, qui in basso, in fondo, alla finestra di G-Edit, c'è una tendina che per difetto si apre come testo semplice, cioè testo senza nessuna caratteristica particolare. Se schiacciate questa tendina, vedete che ci sono tantissimi tipi di sintassi che l'editor riconosce, ci vedete C, C++, Java, JavaScript, ecco, tantissimi. E adesso vi faccio vedere cosa vuol dire l'effetto di questa cosa, anzi, parto scrivendo solo un piccolo commento e un comando. Vedete che il testo semplice resta tutto nero la scrittura. Se io evidenzio con SH, che è poi shell, quindi l'SH è l'estensione del file che indica al nostro sistema Linux che si tratta di un file con codice bash shell, con codice shell da terminare. Ecco, vedete che si è colorata. Io ho scelto SH e noi lavoreremo sempre con questa evidenziazione di sintassi SH qui in basso. Vedete che il commento è un comando, non preoccupatevi di cosa siano in questo momento, ma li ho solo scritti per mostrarvi che si colorano in modo diverso. Vedete, la sintassi si evidenzia a seconda di cosa scrivete e questo aiuta moltissimo nella programmazione, nello sviluppo del vostro script perché a occhio i colori vi evidenziano le parti diverse del codice. Quindi, importante SH, quindi o create un documento, lo salvate direttamente con un nome tipo pippo.sh, poi quando lo riaprite si attiva da solo l'SH perché l'editor lo riconosce, oppure come abbiamo fatto adesso, abbiamo creato un documento non ancora salvato e abbiamo forzato noi il profilo SH. E questa è una cosa. Poi, impostiamo la tabulazione a 4, ecco qui, vedete, larghezza tabulazione, c'è 8, mi sembra per difetto, 2, che è un po' pochino, e 4, che è una buona media. Ecco, la tabulazione è appunto quello spazio che viene messo quando schiacciate il pulsante sulla tastiera, il pulsante della tabulazione, quindi fa 4 caratteri, o meglio, il corrispondente spazio dei 4 caratteri e poi vedete che scrivete. Ecco questo, per lo script bash non è obbligatorio, come per esempio in Python, che è un altro linguaggio di programmazione che richiede l'indentazione per essere eseguito correttamente, nelle bash, negli script bash, non è indispensabile l'indentazione, però in certe parti di programmazione aiuta la lettura, quindi la useremo perché aiuta veramente a leggere il codice che creiamo, quindi tabulazione a 4, che è una buona media, non è troppo in là e non è troppo in qua, e attiviamo il numero di riga, ecco il numero di riga, che vedete qua, 1, 2, 3, 4, man mano che si scrive, è molto importante, come ho scritto qui, quando testeremo il nostro script, perché noi scriviamo il codice, proveremo ad eseguirlo da terminale e dove c'è l'errore viene indicato il numero di riga, quindi il numero di riga è indispensabile per dire ok, l'errore è la riga numero 3, andiamo a vedere cosa c'è che non va, ecco, e poi vabbè, attiviamo, anche qui, più per praticità, l'evidenziazione delle parentesi della riga sulla quale stiamo lavorando, io metto qua delle parentesi e vedete che magari metto anche un paio di parentesi quadre giusto per farvi capire cosa intendo, vedete che quando io passo con il cursore sulla parentesi lui mi evidenzia a quale parentesi si chiude e corrisponde, questo quando le cose diventano un po' complicate, un po' lunghe, è molto comodo capire quando siete qui, ecco, che magari l'altra parentesi è molto più avanti, capire subito dove si chiude questa parentesi in modo da fare meno errori durante la stesura dello script, facilita le cose, ecco, quindi attiviamo anche l'evidenziazione, ecco, dove si attivano queste cose che non ve l'ho fatto vedere, quindi modifica preferenze di gedit, vedete, mostrare i numeri di riga, evidenziare la riga, evidenziare le parentesi, ecco, praticamente questo, queste qui sono le opzioni che dovete attivare, poi il tabulatore a 4 l'abbiamo fatto qui nella tendina in basso, nella barra di stato in basso, oppure la potete comunque attivare per difetto qui, ampiezza della tabulazione 4 e vi si aprirà sempre gedit con 4 invece di 8 o 2 o quello che è, non fosse così, comunque almeno quello potete regolarlo comunque qua, la stessa cosa delle preferenze appunto, quindi preferenze, numeri di riga, evidenziare le parentesi, eventualmente la tabulazione da qua, per il resto appunto appena chiamate un file .sh si posiziona già da solo sull'evidenziazione della sintassi sh se no lo potete dire voi fra i decine e decine di linguaggi dite ecco, attiviamo la sintassi, ecco, questo è il nostro strumento di lavoro che useremo sempre durante tutto il corso poi vi lascio in descrizione vari link utili a ulteriormente approfondire l'argomento tutta questa serie ovviamente non stiamo qui a vederli queste sono le parti del corso che faremo l'ho suddiviso in 17 parti e potete vedere qui i titoli delle varie parti quindi questa che stiamo che sto registrando adesso che state guardando adesso è la parte 1 introduzione diciamo e dalla parte 2 in avanti partiremo a descrivere quelli che diciamo posso chiamare i mattoncini che ci permetteranno alla fine del corso di aver composto il tutto di essere in grado di crearci il nostro script quindi man mano non stiamo qui a guardare neanche troppo adesso vi lascio un'immagine qui così potete fermare il video se volete leggere i titoli non li leggiamo tutti comunque sono suddivisi più o meno in parte una successiva all'altra per comporre il tutto alla fine ecco vedete ci sono anche delle parti che non sono obbligatorie ma abbelliscono lo script vedremo in cosa consiste e poi ovviamente c'è un risultato finale ecco nel commento del video vi lascio di questo video vi lascio già tutto materiale tutte queste parti perché ogni parte dalla 1 questa presente fino alla parte 17 ha il suo il suo testo come questo che sto scorrendo adesso nella sua nota io clicco qui si parte con la prima parte vera primavera parte del corso fino alla 17esima ecco tutto questo il testo più tutti i corrispondenti vediamo un po' tutti i corrispondenti codici codici script quindi che ho già preconfezionato vedete con le parti 2 dalla parte 2 fino alla parte 16 poi la 17 un'altra parte ed è tutto questi qui sono tutti script già pronti i file di supporto agli script tutto quanto e questi qui sono tutti testi compreso questo in formato html io vi ho riportato vi ho esportato tutto tutto quello che avete visto qui in formato html l'ho messo in questo archivio compresso che vi metterò come link nel commento a questo video per scaricarlo così già da questa prima parte prima puntata prima lezione chiamatela come volete avrete la possibilità di scaricare tutto il corso e l'avrete lì pronto per seguire poi le prossime parti ecco questo qui basta che lo apriate con un doppio clic e vi si apre il solito gestore di archivi compressi vedete che c'è tutto all'interno tutte le parti tutto tutto già pronto quindi vi lascerò questo questo archivio compresso come come supporto al corso è già completo vi lascio tutto ho deciso di fare un archivio compresso così che è più pratico che non mettere link in ogni parte del corso perché insomma sono 17 quindi vi do tutto già subito e poi seguiranno le altre parti ecco mi sembra di aver detto più o meno tutto a parte mostrarvi il risultato finale del corso ovvero io ho creato alla fine sempre con scopi più didattici che pratici uno script che riassume un po' tutto appunto i mattoncini che abbiamo imparato nelle 17 parti e ve lo mostro così rapidamente prima di chiudere questo video che si sta già lungando vi mostro rapidamente come si presenta almeno all'inizio la possibilità di questo di questo video di questo script scusate finale ecco non guardate come lo richiamo perché per come perché verrà spiegato tutto nelle prossime parti del corso nelle prossime lezioni comunque essendo uno script per un corso è un po' particolare adesso io l'ho avviato in modalità terminale vuol dire che questo script fa certe cose ecco qui e inizia avvisandomi di mettere a tutto schermo il terminale perché lo script è stato creato per funzionare a tutto schermo noi lo mettiamo a tutto schermo e viene fuori un menu principale che fa che svolge otto funzioni otto compiti e l'ultima si esce dallo script voi potete scegliere da uno a otto queste funzionalità vediamo un po' vabbè banalmente scelgo la quattro giusto per farmi vedere una quindi qui vedete in basso a destra c'è scegli un'opzione dal menu si mette il numero quattro enter e viene richiamata la calcolatrice così banalmente vedete richiamo della calcolatrice di gnome e lì aspetta se chiudo la calcolatrice vedete enter per tornare al menu principale enter e così via poi se schiaccio se schiaccio se digito x metto la mia x esco dallo script e vedete che ho anche aggiunto una notifica qua che mi dice grazie per aver usato questo script vedete carino come esercizio e siccome appunto è un esercizio didattico ho creato praticamente anche la stessa cosa in modalità grafica naturalmente nella realtà voi ne creerete un esemplare solo o lo creerete per essere usato nel terminale o come modalità grafica naturalmente non state lì fare il lavoro in doppio io l'ho fatto in doppio ovviamente per ovvi motivi ecco la modalità grafica quindi parte vi presenta lo stesso menu delle otto funzionalità che avete visto nel menu prima terminale e vabbè faccio la stessa cosa qui si sceglie con il mouse si fa ok viene richiamata la calcolatrice né più né meno che prima e poi ritorna al menu principale e questa qui è la modalità grafica perché bene sì c'è un modulo che ci permette di sviluppare di creare uno script bash ma anche integrando non solo il terminale ma anche parti di interfaccia grafica poi facciamo annulla ed è finito grazie per aver usato questo script vedete qua ecco ho finito questo video introduttivo che forse è anche più lungo o dove è finito più lungo di quello che non avrei voluto ma insomma bisogna pur spiegare l'ambito e il perché mi sono messo a fare questa impresa di 17 lezioni bash spero di aver suscitato il vostro interesse spero che mi seguiate o che magari per curiosità iniziate a seguirlo se poi vi interessa o meno me lo direte poi voi nei vari commenti vi ringrazio e vi attendo alla prossima lezione ciao ciao ciao